Quello di oggi per l'Italia è indubbiamente un momento chiave per l'Italia della palla a mano perché arriva la Lettonia. Il palleggio portato avanti da Marrocchi sotto contatto, c'è il gol dell'Italia, pallone che ha barcato la linea di porta, può esultare il pubblico di Pescara per la prima rete della partita, la segna il veterano. Parisini che ha tu per tu sui sei metri col portiere avversario, non sbaglia, il capitano ha il gol dell'Italia per il... Arriva il gol del Pari con Guntes Pilpux. E passa il gol! Come vinto! Manolo! Manolovic ha spazio per il tiro, se lo prende, prima rete, il gara ufficiale per Cristian Manolovic, 17 anni e dopo i golli in amichevole della Croazia, segna anche in queste qualificazioni europee. Palla nell'angolo, Leo Prantler sul secondo palo, non sbaglia. Giro di schiena, lo scarico per De Angelis che può risalire, De Angelis, a segno, Tommaso De Angelis, segnano i due giovanissimi di questa nazionale. Intercettato, Pilpux, il tiro para Volarevic, che si abbassa, buono l'intervento, timata e Volarevic. Tiro non facile, la volante, spettacolo Italia con Paolo Marrocchi. Pugliese con una girella, prima partita in nazionale, prima palla toccata, girella e golla alle qualificazioni europee. I primi due punti del nostro girone di qualificazione, Italia batta Lettonia, 36 a 23.